Terminata da pochi giorni l'Assemblea Associativa dell'Azione Cattolica, si ritorna subito in grande attività, una o due giorni nel prossimo weekend. Che cosa succederà? Sì, nel prossimo weekend a partire dal pomeriggio di sabato a San Terenzo inizieremo un ritiro di quaresima dove avremo modo appunto di meditare grazie all'incontro con Don Alessandro Gersi che è il nostro responsabile regionale e poi alla sera il Messac ci offrirà una veglia di preghiera proprio in concomitanza dei due anni dell'inizio della guerra in Ucraina. Ce n'è diciamo abbastanza bisogno visto anche quello che sta succedendo nel mondo. Poi la domenica nella mattina al Sacro Cuore continuerà questa meditazione di Don Alessandro alla chiesa del Sacro Cuore in via 20 Settembre e si concluderà tutto con la Messa verso mezzogiorno. Un'occasione importante per entrare in sintonia di questo periodo di quaresima dove appunto ci dobbiamo preparare alla Pasqua. Come sempre l'azione cattolica ovviamente rivolge le proprie attività ai propri associati ma non solo. È una vita di parrocchio, è una vita di chiesa quindi questi incontri sono aperti a tutti. Sicuramente sono aperti a tutti e soprattutto la veglia di preghiera che ci sarà il sabato sera è veramente un momento di incontro con tutte le persone di buona volontà diciamo così che ci tengono a mettere la pace nel loro cuore. Il volantino parla di informazioni tecniche e iscrizioni, mettiamo i numeri di telefono in sovraimpressione, iscrizioni perché? Iscrizioni perché? Perché il sabato chi vuole anche fermarsi alla veglia può diciamo cenare in maniera abbastanza diciamo semplice con noi quindi abbiamo necessità di sapere più o meno il numero delle persone che si dovranno fermare però poi per il resto siete tutti ben accetti. Grazie 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 Grazie